Si diapre il confronto fra sindacati e amministrazione sulla questione dei contratti di servizio di Alba. La riunione tenutasi ieri, oltre a chiarire gli aspetti critici della questione societaria, ha messo un punto sugli indirizzi futuri legati al fondamentale tema dei nuovi contratti di servizio sul fronte della manutenzione dell'igiene urbana. Il prossimo appuntamento è fissato per il 13 novembre. Per l'occasione le parti si confronteranno su due bozze di contratti al fine di avviare un confronto fra governance e parti sociali. L'amarezza per un percorso che si pensava concluso, spiegano Erasmo Venosi ed Alfonso Rianna della CGL, è compensata da un indirizzo politico e tecnico che conferma tutto l'impianto ad oggi concordato in sede di confronto sindacale con un'autoconvocazione per il 13 novembre 2018, in cui si avrà per la prima volta la possibilità di confrontarsi su due bozze di contratti di servizio senza altre sorprese ed addirittura con un organigramma ed un manzionario aziendale.